Allora ragazzi siamo qui per un video molto veloce per dirvi che è stato beccato il finto F-Mark 95 quindi adesso ve lo confermo c'è lui ora purtroppo non posso entrare perché mi manca diciamo il titanium addon si vede che lo ha o scaricato o comprato o comunque non lo dispongo come vedete nome partita F-Mark 95 una fasulata perché come sapete io ho F-Mark 95 YouTube serie quindi ve lo ripeto e ve lo stra ripeto sono molto arrabbiato per questo e potrei avere in mente diciamo una persona che comunque adesso comincerò un po' ad indagare perché sinceramente mi rompe le scatole non più di tanto a me però in quanto proprio si spaccia non è che uno scrive sei tu il vero F-Mark 95 uno dice guarda no però uso comunque il suo nome cioè dice sì sì sono io questo e quello dice delle cazzate pazzesche e queste cose mi fanno poi arrabbiare quindi mi raccomando se lo vedete non entrate non e vi dico non entrate poi adesso penso di essere anche un po' più furbo visto che tra poco inizia anche la serie americana quindi utilizza anche una mappa che vi dico guardate F-Mark 95 no non è assolutamente vero anche perché io non uso il DLC di farming ma va ben sì proprio le mod in sé che sto praticamente già caricando quindi tempo giorni inizia la nuova serie niente sono molto molto arrabbiato per questo e guarda se potessi farti saltare il computer ti dico lo farei se riuscissi a rintracciare l'IP ti dico ti distruggerai il computer in due secondi ovviamente per adesso non posso farlo o comunque non posso rintracciarti però vedrai che è già la quinta, sesta, settima volta che ti back però stavolta diciamo ho avuto anche il tempo due secondi di fare il video quindi questo è il fake non sono io ve lo ricordo ve lo ripeto se qualcuno vi arriva dentro la vostra farm che è F-Mark 95 uno non accettatelo due immediatamente vi dico immediatamente mandatemi un messaggio su facebook che lì vi rispondo sempre o comunque guardo e mi dice sei tu che stai entrando io ti dico magari magari ti dico sì guarda sono io perché sto provando la connessione ok ti dico no sono io è un fake basta quello lì proprio non lo devi proprio accettare ovviamente ci sono questi bastardi che si vanno talmente niente non malgritamente niente che devono usare il nome di una persona importante purché qualcuno li venga a giocare dentro con loro o qualcuno li accetti pensate un po' come siamo presi ma così va stessa roba che è successa a Killer Croc non so se lo sapete che gli ha rubato una tredicina di video uno l'ha rubato anche a me e quindi questo canale qui insomma sono casini che adesso vengono fuori casini fissi perché io e Killer Croc abbiamo la partner come ben sapete come basta vedere da inizio video che c'è la pubblicità e sapete che quando c'è la partner di mezzo vuol dire che ci sono i diritti e quando ci sono i diritti sulle cose lì si va giù pesante cioè chiusura del canale come minimo bene finisco questo video con l'annunciarvi che tra poco arriva diciamo l'ultima puntata della serie e la prima nuova sperando non ci siano troppi errori e vi ricordo evitate vi prego evitate questo maledetto qui evitatelo assolutamente io non ho il dlc però vi dico cioè rischia di brutto cioè se becco chi è veramente dopo li scarico addosso tutte le persone tutti i miei iscritti te li scarico tutti addosso se tu adesso stai guardando questo video perché sicuramente sei tra tra gli iscritti sicuramente forse e anche nella pagina di facebook in teoria perché tante volte quando scrivo che tu ci sei fatalità tu esci subito quindi ormai sei quasi rintracciato quindi vedi di cambiare subito il nome anche tu ti chiami Marco togli e sei nato il 95 però per piacere togli la F davanti o cambia e metti qualcos'altro ma non usare il mio nome uno perché ci sono stato prima io è già lì si capisce due perché così fai solo figure di merda se ne sarà anche andato no eccolo qua cioè lui sta dentro tranquillo pensa che è sera io non ci sono perché vabbè ciao a tutti se lo beccate segnalatelo e cercate di far domande e per capire da dove viene chi è perché se becco il tuo vero nome ti scarico tutti tutti i 5.000 iscritti dico tutti i 5.000 iscritti di insultarti di intasarti la casella di posta cioè non hai idea di quello che ho in mente ciao a tutti ragazzi e alla prossima